Oggi abbiamo una sfida! Due mani, una mano e senza mani! Mangeremo cibi diversi e chi non mangia riceverà uno sciappalà! Cosa stiamo aspettando? Iniziamo il primo round! Uno, due, tre! Pizza! Spero amici di mangiare con due mani come un essere umano! Ora con una selezione casuale scopriremo come mangeremo questa pizza! Per me è questa! Amici, ho una mano sola! E io invece senza mani! Io mangerò con due mani! Mangerò questa pizza alla maniera umana! Amici, sono sfortunato! Come farò a mangiare senza mani, ragazzi? Vardimon, smetti di piangere! È meglio che tu mangi, loser! Bella pizza! Si può mangiare tranquillamente con una mano! Mangio con due mani, amici! È molto facile! Cavolo, amici! Devo mangiarla senza mani! È molto difficile, amici! Sono come un cane! Ho un'idea, guardate! Ce l'ho, guardate! Comincio da qui! No, aspetta un attimo! Mi mangerò tutto, amici! Non mi arrendo! Amici, ho finito! L'ho finito! Amici, me ne è rimasto un po'! Forza! Ciao! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Vogliamo iniziare il prossimo! Andiamo! A questo giro, amici, abbiamo le banane! Amici, addoro le banane! Amici, mi chiedo se chi dovrà mangiare senza mani riuscirà a mangiare questa banana! È molto difficile, bisogna prima aprirla! Allora, amici, comincio io! Questa la prendo io! Questa la prendo io! Oh, amici, ho due mani! E io, invece, ho una mano sola! E devo mangiare senza mani! Devo mangiare una banana senza mani! Due mani, fratelli! Facile! La apro e la mangio! Amici, credo di poterlo fare con una mano sola! Guardate qui! Allora, l'apro con la bocca! Bravo, Dimon! Bravo! Adesso mordi! Guardate qui! L'apro con la bocca! Perfetto! Non so cosa fare adesso! Come ha fatto, Dimon? Non lo so! Odisseo, ora mi sembri un leone! Come un leone! Guarda! Guarda! Oh my god! Dai, dai! Guardalo, guardalo! Se mangia tutto, chi prende lo sciapalà? Non lo so! Amici, ce l'ho fatta! Sì, ragazzi! Amici, iniziamo il prossimo round! Andiamo! Amici, guardate quanto è piccola la Coca-Cola! Per chi l'hanno fatta! È molto piccola, eh? Vero? Sì, ragazzi! Ma che aspettiamo? Cominciamo! Forza, forza, forza! Io prendo quella davanti a me! Io ho questo! Dimon, lascia perdere! Non puoi farlo! Sentite, amici! Con due mani è easy peasy pam pam! Sì, amici! Guardate ragazzi! L'ho aperto! non so cosa sia forse perché è piccola ma ha un sapore completamente diverso è molto molto dolce lo so sono assolutamente d'accordo ma non riesco a sentirne il sapore dai amico divane un noob amici ho una sfida per voi dovete scrivervi solo con una mano come me avete tre secondi 1 2 3 e se non l'avete ancora fatto scrivetevi adesso bene dimon cosa sta succedendo sta funzionando no non posso non ci riesco non ci riesce dimon sciapala sciapala il loser ciao 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 stas papà guardate ragazzi lecca lecca amici adoro lecca lecca e spero di avere due mani così potrò aprirlo questo lo prendo io amici prendo io eh questo lo prendo io amici dovrò farlo senza mani io ho due mani e io ho una mano sola oh amici perché non ho le mani come faccio a mangiarlo non so nemmeno come aprirlo amici anche con due mani è molto difficile aprire un lecca lecca eh perché li incartano così bene così ce l'ho fatta cosa stai facendo ehi aperto 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 subito non ti discute nemmeno no no amici non ho usato le mani ho vinto è stato tutto giusto è stato secondo le regole e io amici penso che sia una truffa perché stas ha preso le lecca lecca di dimon ma di cosa state parlando non avevo altra scelta non ho usato le mani e per questo ho vinto cosa ne pensate scrivete nei commenti qui sotto era una truffa oppure no cercherò di aprirlo con una mano sola gente bene così sono quasi riuscito a aprirlo ragazzi ho aperto il lecca lecca di stas perché stas mi ha ingannato e l'ho aperto facilmente vieni qui perdente si ragazzi è una truffa amici non ho usato le mani tutto è stato fatto secondo le regole uno due tre mi piace vecchio truffatore amici ho rispettato le regole amici abbattiamo il kitkat io prendo questo amici andiamo io prendo questo e io ho una mano sola io non ho mani e io ho due mani questa volta una mano facile prendi e mordi L'ho aperto amici è aperto guardate Sì ancora un po' Dov'è finito? Dai Dimon è appena volato in cielo Oh questo significa che avrà una sciapalà? Sì Dimon avrà uno sciapalà Sciapalà Ok dai ragazzi iniziamo il prossimo round Ora abbiamo i Doritos li mangiamo tutti quando andiamo al cinema E tutti abbiamo gusti diversi Io ho il peperoncino dolce E io ho il gusto di peperoncino è molto piccante Io ho il classico gusto al formaggio Inizio io e prendo questo Io prendo questo E io ho due mani E io con una mano E io senza mani Due mani easy peasy lemon squeezy Opa 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 Una mano amici è così che lo teniamo e con i denti Opa Bene abbiamo aperto Prendiamone un po' E forza Ciao Oh ragazzi è sempre a me la cosa più difficile Cosa faccio? Ho un'idea Sbatterò la testa sulla confezione di patatine Scoppierà e potrò mangiarle Uno Due Tre Forza Oh ha funzionato non ci credevo Ha funzionato Oh ce l'ha fatta Oh io non ci credevo Oh ha funzionato Pensavo amici che avrebbe perso Che non sarebbe riuscito ad aprirli Ma ce l'ha fatta Tu non credevi in me Cosa ti avevo detto? Amico sei davvero intelligente Ben fatto Disseo Comunque amici questo era il nostro video Se vi è piaciuto mettete mi piace Iscrivetevi Provate il campanello E ci vediamo E ci vediamo